ciao a tutti eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film attesissimo una seconda parte ovvero loro due film di paolo sorrentino con toni servillo incentrato ovviamente sulla figura di silvio berlusconi come sempre ne parlo con pierpaolo bonelli ciao pierpaolo julio loro due chiude questo questo lungo film di paolo sorrentino e avevamo di cui avevamo parlato un paio di settimane fa e che arriva così alla sua naturale conclusione un film che si era aveva visto chiudere la prima parte con un berlusconi diviso tra la voglia di riconquistare veroni calario e l'idea invece di lanciarsi tra le braccia di giovani donne e in questa seconda parte cosa accade in questa seconda parte si continua in parte il discorso da te appena appena detto e in altro modo si parla anche di un berlusconi mi viene da dire un po sul sunset boulevard da un punto di vista politico nel senso che siamo post elezioni diciamo che l'arco narrativo di questa seconda parte più o meno gli ultimi sette otto anni più o meno è di un berlusconi sconfitto uscito dalle elezioni perdente ma che non si arrende e allora cerca innanzitutto di recuperare punti recuperare punti in maniera non proprio lecita ovvero di recuperare sei senatori da portare dalla sua parte perché lui sconfitto è non nella maggioranza nell'opposizione però per pochi per pochi voti allora il film parte subito con lui che cerca di recuperare questi senatori senatori ovviamente corrompendoli in modi più clamorosi ma allo stesso tempo il film segue un binario ovvero questa parte politica che si concentra anche su tutti i vari gaff possiamo dire un eufemismo che negli ultimi dieci anni ha fatto berlusconi a livello politico ovvero si si parla di intercettazioni si parla delle tante donne politiche che lui ha portato qui dentro nel suo partito si facciano alla minetti alle subrette che diventano politiche diventano donne politiche e dall'altra parte c'è ancora questo discorso legato alla sua vita privata al suo matrimonio che sta per per fallire e secondo me anche la parte più interessante più intima del film dove si vede un berlusconi più mi viene da dire tra virgolette umano più riservato e si arriva anche a un certo scontro quasi da western tra berlusconi e veronica lario con un dialogo strettissimo a due in una cucina desolata dove i due se ne dicono veramente di ogni cioè quasi come se avessero un caricatore mi viene da dire visto che ho parlato di western un caricatore di aneddoti a cui non hanno sopportato hanno diciamo così negli anni accumulato soprattutto veronica lario e questo è il momento in cui si fa la resa dei conti per quello mi sento di dire un uno scontro western in senso la ovviamente ecco il i due binari dicevi che sono appunto la visione più politica del termine che così vuole di essere un momento di narrazione della storia dell'italia e l'altra invece quella di del tratteggio di un di un uomo forte di potere ma fondamentalmente solo che è un po la cifra stilistica un po anche di sorrentino ne avevamo già visti tantissimi no di immagini di questo tipo di questo genere da appunto il divo che forse quello più emblematico cioè uomini di potere ma fondamentalmente soli ma altri altri film di sorrentino hanno sempre questa tematica e qua viene ripresa naturalmente poi inserita in questo contesto politico la la c'era nella prima parte anche una storia parallela che era quella di giampaolo tarantini cioè di scamarcio si viene ripresa naturalmente poco poco perché solo all'inizio di del del film c'è il contatto ovvero che il personaggio interpreta riccardo scamarcio che è appunto sergio morra riesce a incontrare berlusconi riesce a entrare anche nelle sue grazie ma in realtà si accorge che berlusconi è un personaggio talmente in alto talmente comunque inarrivabile che lui ci prova ci prova a inserirsi a diventare così amico però berlusconi ha capisce subito che da questa persona bisogna essere diffidenti e quindi in breve tempo lo liquida liquida lui il suo entourage e tutto il entourage di donne che offre il sergio morra per cui viene chiusa la quella parte lì viene chiusa quasi all'inizio si parla di di tutt'altro appunto del del discorso delle intercettazioni del 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 tentativo di di rimanere in politica e dei dei vari nuovi personaggi politici che berlusconi porta sul palcoscenico della politica italiana che trovo ho trovato molto verosimili molto fedeli forse all'originale ecco beh adesso era il monito che poi aveva lanciato un pochettino michele serra negli anni passati in cui diceva che il pericolo non era il pericolo per lo meno i danni non erano tanto di quello che stesse facendo berlusconi in quegli anni ma di quello che avrebbe lasciato in eredità e forse questo film vuole essere no poi una una spiegazione di di quello che siamo diventati di quello che siamo di quello che abbiamo voluto essere alla luce di una serie di avvenimenti e di personaggi tra i quali un personaggio che ha caratterizzato gli ultimi 25 anni della nostra esistenza e che ha radicalmente di fatto cambiato e rimodellato un po l'italia e l'italiano era questo un po il messaggio poi sì assolutamente è questo che si ricollega che ricollega anche un discorso che hai fatto primo prima cioè quello dell'essere solo cioè berlusconi con la sua presenza nella politica condiziona e molto lo stile della politica e il modo di far politica di di arrangiarsi e di gestire le cose ma poi alla fine lui rimane rimane solo e è anche malinconico un po questa sensazione che si percepisce anche nella vita privata di questo berlusconi che viene abbandonato si capisce che la nave di berlusconi ormai non è più forte come come potente come prima e quindi tanti anche i più fedeli lo abbandonano e quindi cosa rimane rimane questo bellissimo mi vien da dire bellissimo quadro che ha fatto sorrentino che col senno di poi vedendo anche la seconda parte ritratta cioè tratta e raffigura molto bene da un punto di vista come avevi detto tu nella nella prima parte della recensione di loro uno l'italia l'italia l'italiano e berlusconi da un punto di vista sociale e politico e quindi col senno di poi devo dire che questa operazione di paolo paolo sorrentino l'ho trovata assolutamente vincente anzi mi ha dico anche che mi ha convinto molto di più questo film che la prima parte perché è un film molto più intimo molto meno grottesco e quindi se come comprensione anche più facile devo essere sincero molto più facile chiaro ecco secondo me però il quadro che ne viene fuori l'immagine che viene fuori è molto più precisa e non viene sviato da l'elemento grottesco che a volte prende il sopravvento su quello che trasporta su quel messaggio che che porta e quindi è un film più più riservato più più discreto anche nei nei toni anche se non mancano le scene le le sequenze molto eccentriche molto esplicite dove ci sono sesso e ovviamente droga come nel primo loro uno l'operazione finale poi insomma è un film tutto questo da vedere certo magari diviso in due parti per forza perché al cinema è stato distribuito in questo modo ma forse avere c'è un film che insomma che dovrebbe essere visto tutto assieme tutto d'un fiato per per godere appieno no probabilmente di questa di questa operazione come dicevi sì assolutamente perché nella sua interezza sono appunto più di tre ore di film perché sono cento minuti la prima parte cento minuti la seconda parte quindi un totale di tre ore e venti minuto più minuto bene però visto nel suo insieme è un film che si capisce si capisce di più si capisce perché questa prima ora in cui berlusconi non è non è presente anche se si parla di lui e nelle restanti due ore è tutto su silvio berlusconi silvio berlusconi è protagonista assoluto di loro due ed era protagonista nella 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 seconda parte di di loro uno quindi è un'operazione che funziona benissimo l'unica cosa mi permette di fare una critica è secondo me è stata l'uscita in questo periodo forse questi due film non dovevano uscire perché c'è da dire perché sono i dati del box office il film il primo film è andato benino ha incassato poco meno di due milioni perché c'è anche in sala Avengers Infinity War che sta incassando in maniera enorme e quindi purtroppo viene purtroppo noi Avengers Infinity War è piaciuto però tanto pubblico secondo me rischia di perdere solo questo questo film anche in un periodo in cui la gente non va tantissimo al cinema se va al cinema va a vedere il film più eclatante ecco secondo me quell'unico difetto che mi sento di dare a questo film è proprio l'uscita un'uscita un po' un po' strana che rischia di essere controproducente anche se il secondo film ripeto è totalmente incentrato su silvio berlusconi interpretato in maniera assoluta egregia da da Tony Servillo e lo vediamo nel sempre nella nella sua Sardegna nella sua casa e nel suo intimo bene un voto al quest'opera generale totale che si chiude di loro di Paolo Sorrentino un voto totale gli do un bel sette e mezzo otto sette e mezzo otto perché è stata un'operazione comunque rischiosa difficile che sarà soggetta ovviamente a critica ma il tocco di Paolo Sorrentino si vede e secondo me si apprezza ancora di più guardando questa seconda parte quindi avendo un quadro più generico oltre al fatto che l'elogio che faccio a Sorrentino è di aver deciso di raccontare a suo modo un personaggio così eccentrico e particolare dell'Italia ma di aver preso solo alcuni elementi cioè non di aver raccontato il suo arco narrativo e soprattutto di aver raccontato sia la parte pubblica e politica ma ancora di più che secondo me era il suo intento principale la parte privata e dentro le mura di casa quindi una cosa che penso pochi registi avrebbero scelto questa strada così così difficile loro si conclude quindi il 10 maggio con la seconda parte il film di Paolo Sorrentino Tony Servillo interprete principale poi tantissimi attori italiani a completare questo quadro socio politico di una regista premio Oscar e di una delle punte insomma più importanti del cinema italiano attualmente. Chioso come avevo fatto con la recensione di Loro Uno con un elogio l'avevo fatto per Loro Uno a Riccardo Scamarcio perché era assoluto era molto bravo in quel in quel film e qua Elena Sofia Ricci che interpreta Veronica Lario è molto brava e soprattutto quando c'è questo famigerato scontro western in cucina è stupenda è superba e regge benissimo lo scontro lo scontro il confronto con Tony Servillo quindi complimenti a lei per questa recensione è tutto è tutto grazie per Paolo ciao a tutti e vi raccomando iscrivetevi al canale di Cinetevilani ciao